ma com'è giorno 2 ma com'è giorno 2 ma non mi ha salvato un cazzo ma che vuol dire ma devo rifare un'altra volta quello là no vabbè dai frate oddio è vero che non abbiamo fatto un cazzo abbiamo fatto praticamente solamente le missioni però no dai ma che vuol dire ma perchè bisogna rifare questa e il pagnotto ti è mancato che merda però supermercato ma così non vale frate no il supermarket mi ha salvato questo non mi ha salvato non capisco perchè posso come infiedere una mignotta questo comunque come cazzo voglio ho fatto il punto oh io ho ancora la palla a me perchè giustamente questi stanno a giocare io sono andata ancora la palla oh mamma mia avete una pista ma che cazzo giocate porco 2 a briscola ma non sapete core ma come si fa a droppare questa palla ora avrete passata la palla tiè oh oh mi sono andata lei si si di merda oh a stronzi so io che bullizzo oh a pezzi di merda lascia dove sta aiuto mi hanno buggato ma guarda sti bastardi ma non si toglie sta palla di merda ma perchè ha cappottato quello ma si sono impazziti ma si sono impazziti completamente si sono menati tra loro ma in quale senso vabbè matti in culo loro comunque veramente buy item non ho parole veramente pazzi matti come i cavalli questi vai a vedere se ho la scuola no non c'è la scuola in piscina regà perchè non mi ha saltato un cazzo schiopaperone nulla vabbè niente andavo a far schioppare il petardo io speravo di andare avanti invece rip l'accendino ce l'hai? come l'altra volta stavano a fare tocca tornare indietro mo? zio pero? e via va perchè avevi lasciato la palla e l'aveva preso quello ma stai scherzando ma sto male mi sento male nel mare ci sono tante cose eh scusa me l'ho scordata l'accendino grazie ma chi è questo la macchinetta? si però regà se non salva così è un po' un problema eh ah c'erano i sordi? eh vabbè rip ci prenderemo questo corre come fiata una mignotta lui comunque mamma mia però mi salta poi niente bisogna andare a far schioppar presi da adesso andiamo di qua let's go let's go let's go no 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 eccolo qua il pezzo di merda sono morta sono morta you've been punished go see the bad guy for the next mission non ho capito che sia successo sinceramente vabbè e sono morta perché prima chiaramente mi hanno gonfiato le botte ero rimasta con uno sputo la signora lottermeyer della religione oh no signorina scusami mi sono mi sono così mi sono è stato un errore oh fa un scattino oddio oddio inquietante 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 oddio guarda fa finta oddio ma fa paura lei fa finta che te prende poi se ne va poi viaggia ma che fa no no vatten affanculo eh chiaracchia paurissima lei oh poverutti in culen mica mica cavoli oh take a journey into the lake vabbè ho capito che forti take a journey a gurney ah già è vero ogni volta mi sbaglio che cos'è la gurney raga la barella no la barella era curata la barella era la barella ok mi tocca sta attento che c'è la signora Luther Mayer che rompe i coglioni eh mica cavoli mi sono scordato stava in fermeria ah pensavo fossero sordi ma non stava qua in fermeria raga dove cazzo stava in fermeria dove cazzo era l'infermeria oddio ma sai che ho fatto una cazzata ma mia la prende dove questa madonna è si nel caso posso salvarmi col cavallo ma dov'è dove è l'infermeria vorrei capire ah forse era da quest'altra parte della della mi sa qua mi sa era eccola adorietto cerise modonettone oh ma ha detto nulla lui forse perché devo correre se corro vabbè vedi oh merda mi hanno seguito mi hanno seguito mi hanno seguito mi hanno seguito maronne di allora tu vai intanto vai qua porca troia fulmine ti prego fulmine ti prego fulmine salvami salvami fulmine 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 l'ho parcheggiato Donetto guarda come sta arzole sappia arzole ha un stabilimento collettino sta guarda chi ha a mazza questo vai Donetto un bagnetto al lago e chi ti ammazza a te dieee dai una mara ripia Donetto purello vai è volato è volato nel iberspazio ma è volato nel iberspazio ma tu cazzo sa ma dove è andato ma dov'è in cielo in cielo ma ragazzi ma ragazzi dov'è Tonetto ma tu cazzo ma tu cazzo è andato ma tu cazzo è andato ma come è arrivato fino a là ma come c'è arrivato fino a ma poi ha peso su un lato tipo quelli del del circo che tirano i cortelli mamma mia ragazzi Tonetto che uomo che uomo vero Tonetto non dice A poi non dice A non apre bocca sopporta tutto fantastico meraviglioso è nulla da dire ho già buttato a mare Tonetto purello sotto sopra così no non c'è stata io e la madonna l'ho uccisa ma no cammina tranquillamente sui suoi piedi sulle sue gambe perfetto ciao bagno vabbè Tonetto prende il sole nulla di diverso nulla di nuovo c'è regà molto caldo aspetta toccato a fuoco di nuovo i cassonetti ma io sto male mi sono spinta un pochino ma che ce vuole eh questo è tosta sono arrivati così ma l'altra volta se siamo fermati qua così qual'era l'ultima che avevamo fatto non ha senso no che non salva ma cioè è completamente scemo qui ce n'è un altro un quarto ma che sta stavolta ancora non mi hanno trovato vabbè sto male oddio so per più a fuoco io ma non mi hanno ancora trovato ma che forti è cotonetto in barella ma non capisco di nuovo questo morirà a posto deposition points mani so stato io che cazzo vuoi mi ha visto qualcuno a posto non so chiaramente chiamato i vigili del fuoco ma posso interagire con i vigili del fuoco vogliamo fate largo fate largo c'è stato un incendio dobbiamo spiegare un incendio fate largo fate largo fate largo ci pensiamo noi come sei andata a sta cazzo di scuola da qua no da qua aspetta no vai dietro dietro marcia you've been punished avoid getting caught by hoddle ma cosa you've been cioè sono stato punito da chi che manco mi hanno preso aspetta aspetta mo io imbocca mo io imboccavo dentro la scuola capito aspetta aspetta tocca fa tocca fa retro marcia è un po' invasiva retro marcia ma eccoci qua eh signori è stato è quel giorno lì è quel giorno lì oddio indietro fate passare fate passare vigili del fuoco vigili del fuoco fate passare fate passare vigili del fuoco è importantissimo no non ci passa merda ho deciso tutta la ho capito ma te metti dietro ma che pretendi abbia pazienza oddio lui è morto credo lui sia morto sì infatti aspetta aspetta non sono riuscita ad entrare bene aspetta perfetto ok il l'obiettivo è ammazzare tutta la squadra di rugby questo è perché mi avete presa a carci prima pezzi di merda questo che cos'è mi avete picchiato perché ho preso la palla mi avete picchiato mi avete picchiato perché ho preso la palletta la vostra palletta di merda tieni ecco la palletta di merda vai oh cazzo ha preso fuoco ha preso fuoco io giuro io non ce la faccio con sto gioco ti giuro io questo gioco non ce la faccio è troppo bello è esploso tutto è esploso fantastico aspetta donna rubai i soldi di quel cadavere di prima perfetto oh altri soldi madonna ragazza sono ricca cazzo altri soldi per me qua oh attenzione attenzione sono ricca bene bene dai un bel bottino oggi eh bello dai fantastico che gioiolento mamma mia però non so come mai ti dà good vibes guarda veramente ti fa sfo ma questo è quello grosso scusa no non vuole ah cazzo questo è l'insegnante di ginnastica è grosso si troppo grosso per me troppo grosso eh perché è l'insegnante di ginnastica quello si vede eh scribble on five scusa no ancora questo era sopra questo cinque lavagne maria mariella vabbè vabbè scrivi for you hands differenzi di pugnire alla lavagna coglioni no ma di qua aspetta un pezzo ce vuole la signora Rottermaier non mi ha detto niente è strano è strano che non ha rotto i coglioni molto strano ciao Sara grazie mille per i ride benvenuti stiamo facendo i bulli noi così la sera di Pasqua così ti piaceva l'idea ciao Alebbina ciao carini dove devo andare? devo trovare altre altre lavagne ma è difficile trovare le altre lavagne ma non ce stanno non si vedono più le frecce ma mi sa che ho ma questa punterellato è la cosa più normale da da disegnare un pene che fai se no che disegni? che si può disegnare con un gesso? ah ho capito Alessandro ok ho capito devo finire il giorno altrimenti non mi fa eh bella merda finiamo questa lavagna di merda oh eccola 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 Pertiamo punto Ops mi sa che sta incazzato Oh ma che fa? Mi fa rifare la missione? Throw a shark into the pool Ma l'ho già fatto Ma l'ho già fatto Ma devo andare a piovo di shark per metterla in a pool Ma sta la segnata di ginnastica Sì è un drago Enorme cazzo Un po' troppo Addirittura l'animazione delle foglie che cadono Cioè è fantastico proprio Di altissimo livello Prendo furmine vado via Ma non posso andare con furmine dentro Al coso E se no ogni volta Devo andare alla riprende Oh ma mi ha morso Sto bastardo Squalo Balordo C'è l'ho lo skate? Sì l'avevo preso o no? Eh ma mi sa che senza Cioè con lo skate non mi fa portare Eccoci qua Pronti Pronti per finire questa giornata Perché Lady? Ciao Maxime euro track Buonasera Si corre Si è una forza disumana È tipo Thanos È il fio di Thanos lui Sta viscina sta Boh Sul Himalaya sta Beh gli squali Non è che Sono proprio animali sereni Ecco Si fanno paura un po' a tutti Effettivamente Ma poi quando l'ho ammorso Ma aspettavo Pronti? Pronti? No No Non devi No No frate Allora non hai capito Piano 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 Ok Non me lo lascia Oddio Oddio Mi sta mordendo Oh Ora ho finito Start a new day Oh Oh Zitti un po' Ora mi salva Day 3 Ok Free the chickens From The Han house Libera le galline Dalla casa di Han Oddio Facciamo solo questa missione nuova Giusto per fare qualcosa di nuovo Andiamo a prendere fulmine però Perché dove cazzo sono le galline Scusami Questo gioco è fantastico Dove dovrebbero essere le galline Casa di Han E dove sta? Ma abbiamo una mappa No Vediamo un po' Dove staranno ste galline raga? A casa di Han Erano dove stai prima con i canoni dei vampieri Quindi dietro Ok proviamo Tutto sto giro tocca fa? Mamma mia ragazzi Casa di Han Vediamo un po' Qua c'è una roba Ancora qua Sennò vedi il nightclub Di nuovo il nightclub Questa è jokes Ma non è che magari Eh qua dietro c'è Ma da sta parte dici stanno? Ma da sta parte dici stanno? Ma da sta parte dici stanno? Gallinella Andate gallinella Madonna Gallina in fuga Ma da cazzo corono Bellissimo Fantastico Tutte via Libere Libere Fantastiche loro Io col cavallo Comunque mi sa Oh ancora stanno Ancora stanno a scappare Ma dove vanno? Mi sarebbe sapere dove vanno Si chiama furmine il cavallo Ma vanno a scuola Dove vanno? Ma dove corrono? Ma si dividono? Il preside che passa Che passano attraverso Le galline Dice A Buonasera Loro comunque secondo me Cioè Vanno all'inferno Hanno attaccato un assunente Mi sa Guardali Sono violentissime Sono violentissime No raga Mi fanno morire Le amo Le fanno Cioè Io mi sto sentendo male Giuro Attacca il preside Te prego Guarda È impazzita Guarda Stanno attaccato È inseguito uno Sta inseguito Guarda Sta inseguito Sta inseguito La ragazzina Ma sta abbelenata Sta gallina Ma guardala Guarda come sta Incazzata È stupendo Ora si sono calmate Questa è ancora Abbelenata Guarda No No te Shane Oddio No te prego Aspetta Ti prego Ti prego No fate pianta la gallina Ti prego Vieni gallinella L'ho presa Te la tengo Ferma Ma che cazzo Sto vedendo Ma che cosa sto Fattando No vabbè Io non so cosa dire Guarda vi giuro Che gioco è Ma che gioco è A posto Adesso è calma Guarda Adesso è rilassata Ha fatto il suo Basso Non è Stava la ragazza Oh Facciamo dei soldi Oh Ormai stavano per terra Presidente Dice niente Ma ragazzi Ma è morta sul serio Sta bambina Madonna Ragazzi Ma è bruttissima Sta cosa Oh è sparita Ok Ragazzi Stavate le galline È una delle cose più belle Che Delle missioni più belle De sto gioco Eh Stupendo La gallina Avvenenata Bella 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 Stupendo Porcavallo No regà Bello Dove che andare avanti A sto gioco Perché sono un sacco Di missioni fantastiche No basta ragazzi Sono morta Sono devastata